Tribunale di Bassano della Pedemontana Veneta, ultimo atto. In attesa della sentenza più importante per il nuovo palazzo di giustizia di Via Marinali, costato 12 milioni di euro e chiuso prima ancora di aprire in nome di un risparmio che invece avrebbe comportato al momento solo un peggioramento nell'amministrazione della giustizia, non solo in provincia di Vicenza ma anche di Padova e Treviso, il governatore Zaia, che un anno fa iniziò a battersi contro una decisione reputata sbagliata e ingiusta, punta il dito su chi si dovrà assumere la responsabilità di una scelta con conseguenze fondamentali. Chi lo può salvare e chi lo ha chiuso, ricordiamolo fino in fondo, perché leggo dichiarazione addirittura che sembra quasi che chi lo può salvare, cioè questo governo, sembra quasi che ci arrivi come parte non in causa. L'attuale compagine governativa è la stessa compagine che ha chiuso questo governo, per cui si dia una mossa e salvi questo tribunale. La decisione spetta al governo dunque a chi ha ricevuto in questi mesi tutti i dati dei disservizi, non solo dalla regione ma anche dall'ordine degli avvocati e soprattutto dai sindaci, Bassano in primis ma anche e soprattutto Vicenza, Padova e Treviso, con motivazioni dettagliate. Il tribunale di Bassano, come diciamo noi, è un tribunale, effettivamente deve essere salvato perché è un tribunale efficiente, nuovo e che ci garantisce di chiudere una causa civile in due anni e mezzo. Cosa mai accaduta in Veneto, visto è considerato che la tempo di attesa medio in Veneto è di sette anni.